Ha iniziato la sua carriera teatrale dopo essersi diplomato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma ed aver mosso i primi passi sul palcoscenico come attore nel teatro di rivista. Ha debutato nel 1946 con Il Giardino dei Ciliegi ed ha lavorato al Teatro Piccolo di Roma fino al 1951, dedicandosi sempre di più al mondo della radio e a quello della televisione che gli diede il grande successo popolare assieme all'interpretazione delle commedie musicali della dita Garinei e Giovannini, Buonanotte Bettina, 1955. L'adorabile Giulio, 1957-58, è un trapezio per l'Isistrata, 1958-59, aveva una grande passione per il legno e in particolare per l'Intarsio. In un'intervista pubblicata su un rotocalco, affermò di aver cominciato a trafficare con il legno dall'età di otto anni, nel conte Tacchia, interpretando il ruolo del padre del protagonista. Svolge il lavoro di falegname.